Grazie a tutti. Come individuare i segnali delle difficoltà che vivono a scuola gli alunni con disturbo dello spettro autistico, come progettare e gestire progetti educativi e didattici per questo tipo di bambini tenendo conto della diversità che hanno tra di loro e poi come integrarli in classe in un'ottica inclusiva. Per questo il master è mirato a fare acquisire ai corsisti un insieme strutturato di conoscenze e anche di competenze proprio per gestire, accogliere, includere bambini che rientrano appunto nelle varie tipologie dello spettro autistico. Nei diversi gradi di scuola, dalla scuola di infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e secondo grado. Il target è quello dei docenti, curricolare di sostegno, dei referenti per le disabilità, dei coordinatori didattici e dei dirigenti. Abbiamo previsto però anche una percentuale di partecipanti che possono appartenere ad altre categorie e sono interessati al master. Come dicevo alla progettazione di questo master, oltre all'università all'Umsa, hanno contribuito e contribuiranno anche appunto nella realizzazione l'istituto di ortofonologia, il MIUR, perché questo fa parte di uno dei 13 master finanziati dal MIUR di cui prima accennava l'onorevole Binetti e l'università di Hannover che ci fornirà, poi vedremo un attimo rapidamente, una piattaforma per la parte online del corso. La struttura prevede 1500 ore complessive di formazione di cui, come avevamo già detto, una parte in presenza, una parte a distanza, attività online, prove, project work intermedie e finali e poi delle esperienze dirette che sono una caratteristica molto importante a cui il MIUR ha tenuto particolarmente. Il master prevede tre moduli, un primo modulo introduttivo relativo alla classificazione, criteri diagnostici, quindi per dare un quadro generale sia appunto in termini classificatori sia in termini normativi, un secondo modulo in cui la classe si scinderà in tre parti a seconda che si tratti di docenti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria e un terzo modulo in cui si parlerà ancora di autismo e ricerca educativa e tecnologie per la disabilità. Come vedete in ogni modulo sono previste delle esperienze dirette che possono essere svolte a scuola con certificazione da parte del dirigente oppure in appositi centri. Queste esperienze dirette appunto hanno numerose ore perché una parte sarà fatta in presenza e un'altra parte di queste ore saranno dedicate alla progettazione e alla supervisione. Sono previste ovviamente prove intermedie di verifica e anche una prova finale perché poi il titolo è quello di master di primo livello con 60 CFU. In sintesi il master dura un anno, inizierà il 18 novembre, sarà in modalità weekend e è prevista una selezione perché questo master, come dicevo, può contare su un finanziamento del MIUR per cui i docenti in servizio pagano solo 150 euro, che è una cifra irrisoria per un master come potete immaginare ma è di fatto come se il MIUR ha messo a disposizione dei docenti in servizio una borsa di studio. Per i docenti non in servizio, per altre tipologie, non volevamo gravare troppo o fare troppa differenza quindi abbiamo previsto una cifra eccezionale di 500 euro. Le opportunità è che c'è ovviamente la competenza scientifica dell'Istituto di Ortofonologia di docenti che si occupano di didattica non solo nel nostro Ateneo ma di tutta Italia per cui il professor Cottini di cui vedremo tra un poco un video e poi di una piattaforma dell'Università di Hannover che è stata già utilizzata per la formazione online di insegnanti sia in Germania sia in Italia. L'idea è che grazie a questa piattaforma non solo eroghiamo una parte dei crediti come previsto dal Ministero online ma che poi i docenti possono continuare, quindi la piattaforma continuerà ad essere aperta anche dopo la fine del master perché creeranno una comunità e quindi continueranno a scambiarsi idee e a dialogare su questi temi che stanno a cuore a tutti. Il comitato scientifico è chiaramente formato da persone di vario tipo ma di grande valore tutti quanti e l'idea è aiutare gli insegnanti ad affrontare con serenità questo tema. Grazie. Mi dicono che stanno ricevendo molte richieste relative a chi è fuori Roma può seguire il master certamente, ho detto c'è una parte online, una parte in presenza la parte in presenza sarà mediamente due volte a mese in modalità weekend quindi sicuramente può farlo anche chi è fuori Roma. Grazie.